In tempi difficili per il mercato immobiliare ma anche per le famiglie che vorrebbero e non possono acquistare una casa c'è un problema un po' diverso. Chi invece vorrebbe abitare ma manca un cavillo burocratico? Così Maurizio Guzzi ha nome e a capo un po' di un comitato non ufficiale che si è formato a Monte Carro, ad Alghero. Sì, rappresento un po' tante famiglie che hanno acquistato qui in questi anni, hanno sottoscritto i regolari compromessi ma non possono venire a vivere in queste case proprio perché manca questo cavillo, manca un passaggio importante in questo momento che il comune deve fare. Nello specifico di che cosa si tratta? Si tratta a questo punto di un collaudo delle opere di urbanizzazione, significa proprio attaccare la spina a questo posto per farlo vivere, quindi nel momento in cui si fa questo passaggio delle opere di urbanizzazione al comune, questo diventa un quartiere residenziale a tutti gli effetti, quindi diventa parte integrante del comune di Alghero. E sarà un bene per tutti perché come hai visto questo posto è bellissimo e oltre a essere quasi finite queste ville sono state anche in gran parte vendute. Facendo un passo indietro, questo è un progetto che risale ormai tanti anni fa con lungaggini vicissitudini, si è finalmente arrivati appunto alla fase finale e manca appunto l'abitabilità. E' necessario quindi che il comune, fai capire, nomini un tecnico che possa così riconoscerla? Ti spiego, questa è una lottizzazione ovvero è un accordo tra il comune e un privato. Il comune ti concede le autorizzazioni a costruire in cambio di opere di urbanizzazione e tutti i servizi vari. Nel momento in cui tu le realizzi queste opere di urbanizzazione le devi consegnare al comune. Prima però il comune deve nominare un tecnico per il collaudo. Quindi immagina che milioni di euro spesi in questo posto, anni di lavoro, i sacrifici di tante persone che hanno investito i risparmi di una vita per entrare in queste case sono fermi perché non c'è la nomina di un tecnico che costa poche migliaia di euro, quindi è un passaggio semplice. Non è una critica sicuramente, è soltanto far capire all'amministrazione ma anche ai cittadini di Alghero che non conoscono questo posto che qui non verranno gli speculatori, non hanno investito gli speculatori o questi investitori senza scrupoli. Hanno investito persone normali, hanno investito i loro sacrifici di una vita, quindi sono pronti a venire. Alcuni hanno venduto addirittura la propria casa per trasferirsi qui. Adesso c'è anche un problema in più. Se l'impresa che si è occupata appunto del progetto rischia il fallimento, qua a rischiare sono appunto le famiglie. Io questo è un rischio, io sono qui a nome di chi ha comprato, di chi ha sottoscritto i compromessi e vuole entrare nelle proprie case. Però mi sento anche di rappresentare chi in questi anni ha investito milioni di euro, parliamo di imprese che hanno decenni di attività e quindi rischiano il fallimento. Immagina, si rischia il fallimento di imprese, di risparmi di famiglie, tutto per un passaggio burocratico, un passaggio tecnico che non costa nulla al comune in confronto a quello che è stato speso in questi anni. Quante sono le famiglie nuclei che dovranno venire ad abitarci? Ad oggi sono più di 50 sicuro, le villette saranno all'incirca un centinaio adesso. E' stata di famiglie prevalentemente di algheresi o...? Allora, molte sono già di Alghero, ma anche altri, Milano, Roma, vogliono trasferirsi qui, ma non per le vacanze. Loro hanno scelto Alghero per la seconda parte della loro vita, quindi hanno comprato queste case perché vogliono passare la loro parte, diciamo, la seconda parte della loro vita qui ad Alghero. Saranno residenti ad Alghero e quindi sarà un bene per la città, non è solo per chi ha investito, per chi deve trasferirsi in questo posto. Questo è il messaggio che vogliamo dare.